ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale per chi non avesse visto gli scorsi video può andare a cercarli si parlerà soprattutto di self ho inserito anche qualche piccolo video realizzato durante le mie pescate estive anche se purtroppo quest'anno il tempo è sempre poco c'è stato il lockdown ci sono state varie chiusure e purtroppo la pesca è andata un attimo diciamo a scendere il tempo è sempre meno però diciamo per fortuna riesco a ritagliarmi queste piccole sessioni giornaliere o di poche ore soprattutto in fiume ma purtroppo il fiume attualmente è completamente in piena e quindi mi sono rifugiato in questo piccolo laghetto vicino casa nonostante sia inverno le temperature non sono rigide però la temperatura dell'acqua è scesa moltissimo e come ovviamente sapete il metabolismo delle carpe rallenta tantissimo quindi per diciamo pescare poche ore preferisco d'inverno utilizzare al posto delle classiche boilers utilizzare delle esche vive che possono essere i lombrichi soprattutto oppure anche i maggot o i bigattini che dire soprattutto l'utilizzo dei bigattini è conosciuto da sempre da tutti piacciono a qualsiasi pesce ovviamente in inverno diventano una vera e propria bomba perché sono estremamente attrattivi e estremamente appetibili per le carpe in altre stagioni difficilmente si riescono a utilizzare perché attraggono veramente qualsiasi tipo di pesce qualsiasi tipo di disturbo in inverno invece si rivelano un'arma veramente vincente perché ci permettono di pescare bene ovviamente se ci sono laghi con tantissime carpe piccole o comunque tantissimo disturbo difficilmente si riuscirà a pescare ma diciamo che per le mie zone d'inverno si sta abbastanza tranquilli da questo punto di vista quindi voglio farvi vedere come realizzo il mio rig pescare con i bigattini non utilizzerò la classica maggot ma vi farò vedere come realizzare un rig veramente eccezionale spero anche interessante allora la prima cosa da prendere è normalissimo ago e filo filo da cucire di qualsiasi tipologia se riuscite anche un bike floss va benissimo uguale che sarà fondamentale per creare la nostra collana di bigattini la prima cosa da fare ovviamente è passare il filo da cucire dentro l'ago ne basteranno circa 10 15 centimetri non c'è una misura precisa saranno più che sufficienti diciamo per poter legare bene i bigattini la prossima operazione da effettuare è ovviamente passare i bigattini sul lago in questo modo facendo attenzione a non farli scoppiare ne passiamo circa una decina che sono più che sufficienti eccoci qua questo è l'effetto che dovreste avere con delicatezza adesso passiamo i bigattini sul filo facendo attenzione a non farli scoppiare ovviamente cerchiamo di sfilare uno dei capi del filo in modo da essere più semplice da legare sull'amo questo è l'effetto che dovremmo avere con due capi facciamo un nodo senza serrare troppo eccoci qua il prossimo passo è andare inserire una piccola spugnetta al di sotto del bigattino in modo da dargli un effetto diciamo pop up o bilanciato in base a quanta spugna metterete con l'aiuto di un ago andremo a prendere un pezzo di spugna e a passarci il nostro filo eccolo qua ovviamente sarà indicato diciamo un innesco con un anellino un amo con un dirig un qualsiasi innesco che abbia un anellino per appunto rendere più facile da legare in questo caso utilizzo un dirig fatto con la treccia una piccola girella secondo me questa rig è micidiale per inneschi bilanciato di questo genere eccolo qua e ora vi faccio vedere il risultato finale questo è l'effetto che avrete andiamo a vedere come si comporta in acqua come vedete i bigattini rimangono estremamente attivi super attrattivi e rimarranno così per un sacco di tempo micidiale finalmente è arrivata una partenza una bellissima regina tipica di Pestolago bellissimo guardate che colore andiamo a rilasciarla bene ragazzi il video è finito spero sia stato interessante da un modo un po alternativo di innescare appunto i bigattini ci vediamo alla prossima ricordatevi di iscrivervi e di seguirmi alla prossima grazie 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 grazie